Salve a tutti ragazzi, sono Gabriel DiMem in questo video e per dire che praticamente il mio computer portatile adesso ha problemi preoccupanti di scampo e per questo pare che per un po' non uso il computer portatile e possibilmente sarà da cambiare perché dopo le problemi che non si è ignorato completamente anche così adesso pare che saranno problemi seri quindi ragazzi mi ho preparato i problemi con lo schermo che ho scurato e non so come ho fatto da bene e così se non prendo quindi non so che fare credo che è il momento di cambiare computer portatile ma questo non sarà quindi ragazzi con questo video è tutto alla prossima so